Ciao a tutti, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati in una nuova puntata di Crusader Kings 3 con Aquitane. Finalmente riesco a giocarmi questo episodio, eravamo rimasti chi abbiamo dichiarato guerra all'impero bizantino per, appunto, reclamare tutto il titolo grazie ad una linea di successione, insomma, strutturata abbastanza bene. I nostri parenti, i suoi parenti in realtà, non sono altro che gli antenati di questo imperatore e di conseguenza siamo riusciti ad ottenere il claim tutto sull'impero bizantino. L'abbiamo indebolito un pochino con vari assassini, ecco lì qua abbiamo ucciso i vecchi due imperatori in modo tale da lasciare sul trono soltanto questa bambina. Adesso andiamo quindi a selezionare le nostre truppe, infatti già hanno delle rivolte, tiriamo su e andiamo subito a Bisanzio a terminare la guerra. Vediamo se posso anche reclutare... Reclutiamo pure loro, che comunque sono altri 4812 uomini che non fanno male. Allora, voi tutti Ci spostiamo qui Voi otto invece Rimaniamo qua per ora Allora, qua dobbiamo fare Qualche divisione Tu vai qui Voi andate nelle province vicine Solo che C'è un problema di manpower Allora, innanzitutto andiamo piano perché 2.000 uomini arrivano Vorrei tenere le coste Operative Teoricamente se riusciamo a prendere il bambino in ostaggio Solo chissà questi dove approderanno Non lo so Questi sono altri rivoltosi Vediamo con chi sta in guerra a Bisanzio Chi sta difendendo, va bene Noi abbiamo un po' di attrito Ma lo possiamo gestire per ora Allora, qua la guerra sta andando molto bene Io quasi quasi oserei anche a mettere 4 Tanto la zona qui la teniamo sotto controllo Non credo che si vada Che abbiamo preso? Ah, abbiamo preso le rede Eh, infatti abbiamo preso tanti tanti punti Ehm, la bambina dove sta? Sta è qua Quindi dobbiamo continuare a conquistare Eh, per ora non mi sembra che ci siano Grossi problemi Da nessuna parte Non mi pare che mi stiano attaccando Infatti fatemi dezoommare Ok, così Questi sono Qualche uomo, va bene Sono altri 5.000 La guerra qua come procede? 9.000 uomini Diciamo che dovremmo tirarli giù con un unico battaglione 10.000 71 Eh, infatti ci hanno un sacco di problemi Di guerre, di rivolte Ci sono altri 1.000 uomini che stanno Però in realtà se noi abbiamo il titolo Poi non dovrebbe essere così difficile Riuscire a A prendere Ok, questo l'abbiamo preso Spostiamoci qua 86% Qua ci sono 100 truppe di bisanzio 86% Perfetto Adesso prendiamo anche questo Preso Spostiamoci Eh, in realtà a parte vorrei prendere pure Costantinopoli Spostiamoci qua Che le truppe che le truppe bizantine dove stanno Un nuovo perk Ehm Prendiamoci questa Come si permette questo qua di Di fare la guerra Guarda, li stanno rivoltando tutti contro Allora Tu quanti? 5.000 e tu un 900 Ok Mi sembra un po' meglio Eh Ok Poi usiamo un po' di hook Per modificare Ok Abbiamo preso tutto Allora Fermi tutti Che ducato vuoi? Questo qua su Allora Mamma mia che casino Non so se è stata Una mossa semplice Sicuramente Sicuramente Abbiamo troppi terreni Che saranno quelli di bisanzio Suppongo Quindi Eh Quali saranno? Ok Ci abbiamo questi Che fanno parte Di questo tucato Tucato della trascia Questo tucato non mi dice Mi dispiace Qua c'è Costantinopoli Che è una bella città Penso che devo dar via Quitania A livello di lore È È un bel problema Ma ragazzi Costantinopoli Una volta presa Guardate che roba Quindi Mi tengo la trascia Qui ce n'ho due Ma in realtà potrei Semplicemente Tenermi solo Costantinopoli Discountry Eh no Mi conviene tenere lui E dare via E dare via tutto Allora Questi sono Questo Lo possiamo dare A te Garantisci titoli Questo Ok Ehm E questo L'abbiamo sistemato Poi Qui c'ho queste tre Me le voglio tenere Che altri territori c'ho In giro per la mappa Questo non mi riguarda Questo non mi riguarda Eh poi c'ho sti due C'ho questi due Allora Devo dare Aquitania Via Per ora ne do due Ok Dopodiché Allora iniziamo a capire qua Che cosa sta succedendo Ducati Qui c'è un problema di Ducati Qua c'è un Ducati Allora Vediamo pure un attimino Che Ducati mi ha dato Perché ne dovrei avere Un po' troppi Secondo me Mi li apri? Grazie Con te Con te Con te Uno Due Tre Quattro Ducati Quindi Questo Questo lo posso dar via E lo do a te Ducato di Cordoba No No Questo Perfetto E dovrei dar via Anche il Ducato Di Aquitania A questo punto Va bene Diamo via anche il Ducato Di Aquitania Quindi la mia capitale Diventa per ora Cordoba Dove stava il pulsante Me lo son perso Eccolo Ah perché sono in guerra Giusto Quindi devo Allora Allora diamo il Ducato A qualcuno Di Fitato Ok E mi manca Un altro Ducato Se non vado errato Cordoba Trascia Basta I Ducati Sono a posto Dopodiché Vediamo un po' I vari Ducati Qui Voglio capire Che sta succedendo Questi sono messi Tutti bene Se non vado Errato Regno del Leviro Lo potremo creare Solo che Prima vorrei Terminare la guerra Anche se Tu mi levi Questo Ducato Qua Tu mi odi Perché Guerra Offensiva C'erremo un po' Di problemi interni Forse li potremo Anche gestire Altrimenti Ti do Questo Ducato È una bella traversata Vabbè Stai qua giù No No La sorrendo Prendilo Ok Questo C'ho un po' Di vassalli Di troppo Quindi devo fare Dei regni Vediamo un po' Allora Il regno di Gerusalemme Tu fai parte Del regno di Gerusalemme E c'hai questo qua Quindi tu Garantisci i titoli No Ti devo dire Garantire un vassallo No un regno Quindi Garantisci i vassalli Questo Perfetto Dopodiché Questa Fa parte Sei un conte Ah Sei questo qua Allora Pensiamo un attimo All'epiro E la caccia Allora Questo lo creiamo E ti do Il titolo Di Questa Tu c'hai Dei terreni Pure lì Tu C'hai Delle tasse Di troppo Quindi No Io te le metto Così Ok 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 Perfetto Tu che c'hai Allora Te ti do Ti do questo Perfetto Perfetto C'hai qualche territorio di più Ma non mi interessa Garantisci Questo qua Così te lo vedi tu Poi Qua ci abbiamo Questo regno qui Che è questo E in tutto ciò C'è questo qui Che Non è di nessuno Quindi te lo posso Tranquillamente Adesso ti posso anche Revocare il titolo Non accetterei mai Quindi non ti preoccupare Ti do Addirittura Questo qua Poi che altro vuoi Ok Dei terreni ce l'hai Questi poi li andiamo a togliere Tu che cavolo sei Regno della Croazia Non lo posso creare Reviro ci sta Tu fai parte Di che cosa Di questo regno Che lo vado subito A creare Perfetto Questo Fa parte Di questo regno Ah Tu fai parte Del regno Di Nichea Questo pure Potrei creare Tutta sta roba Allora Ehm Ah perché Sono questi Che mi fregano Questi piccoli qua Garantisci titoli Regno di Siria Ok E tu Garantisci Vassalli Questo Questo che roba è Tu dovresti stare In teoria Tutti questi qua Sempre roba mia No Questi però Sì Questa è roba mia Tutti sti Contucoli Sono parte Di questo Ducato E tu Garantisci titoli Ducato Vai Quanti siamo Altri 29 A George La potrei anche Fare E ti vado A dare Ah pure qui E' vero Qua c'è l'Italia Da dover fare Il regno D'Italia Potrei darlo A Pisa Però c'è i territori Pure quassù No A Pisa Non lo do Lo do a Spoleto O a lei Spoleto Fa parte Del regno D'Italia Sì Lo do a Spoleto Regno D'Italia Garantisci titoli No Garantisci vassalli Ho sbagliato Garantisci vassalli Ah tu sei Scusami Tu non sei in guerra Però Allora Garantisci vassalli A Modena Non c'entra nulla Pisa E' troppo Giù Benevento Sta qua sopra Ti sentito Anche Benevento Mannaggia Ti sentito Ti sentito Ok Devo creare Un altro Regno E lo diamo Benevento La dovrei Da Benevento Guarda che macello Però ve la combattete voi Ve la combattete voi Fin dei conti Questa proprio Zero Vediamo A te Questa roba Qua è sotto Questo re Ah Questo ducato Lo garantiamo Allora A te Garantisci titoli Ducato di cordopa No Quanti vassalli Ho ancora 27 Sai che ti dico Sai che ti dico Garantisci titoli Tu sei qua Ok Questi sono Tutti ristabiliti Quindi Garantisci titoli Questo 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 E adesso ti do anche tutta St'altra roba Garantisci vassalli Questo Tutti si piccoletti Qua Alla no Questo no Ok Granata Qua Non ci fa Portogallo Si fanno parte Di questo Regno Che ce l'ha lui Ah sta sotto di me Quindi Garantisci un vassallo Questo Garantisci vassallo Questo Questo Ando sta Di chi è Questo Vabbè Questo Te la vedete Eh giovane Guarda Garantisci vassalli Ah perché Questi non sono miei Poi di qua Invece c'abbiamo Tutta una serie Di terreni Di cui a me Non mi interessa Tutti sti conti qua Pure questo Ah è sempre tuo Allora guarda Sai che ti dico Garantisci vassalli Questo Garantisci vassalli C'è 20 minuti Ragazzi Sto sistemando Sta roba No forse ti esci Tutti questi Fanno parte Di questo Regno Quanti Me ne mancano 19 Vassalli Devo vedere i conti Questi sono tutti Ducati Eh ce l'ho tutti qua Sti conti Piccoli Della Georgia Questo non lo posso Creare Adesso Eh pure questo Era interessante Questo Non c'ho modo Di guadagnare Dei soldi Questa è roba Mia non gliela Posso dare Perché è il mio Regno Quindi ok Eh A te però Te lo posso dare Questo Quindi Garantisci Vassalli Ma che cavolo Sei in guerra Ah Perché c'è in guerra L'uno con l'altro Purtroppo Niente O diamo via Un pezzo Di qua Potrei dar via Potrei dar via Qui Il problema Che non c'ho L'impero io Quindi Qua andrei a perdere Davvero tanti soldi Potrei dar via Lui però Te ti posso anche Imprigionare Volendo Ti posso anche Imprigionare Ok E Marshall È andato via Ma ora Lo butto fuori Mettiamo lei Eh Il problema Ragazzi È che poi C'ho tutti Dei conti Piccoli Tutta sta roba Su territori Che non ci dovrebbero stare In teoria Tutti sti conti Che non c'ho soldi 58 Facciamo partire 76 Dov'ai De Become Marsha Vabbè Poi Eh Ammazza Duga Georgia De che c'hai Che vuoi De Questo regno Qua Allora Arriviamo 400 23 mesi E 25 Allora Io non ho preso Dei prigionieri Prigionieri 6 Allora È un po' Tu che sei Se ti uccido Sono cortigiano Via Questa Ok Abbiamo guadagnato Un po' Di Di Red Che interessante Sì Eh Non voglio Perdere Anche se C'ho 100 Non voglio Questo Chi è Allora Quelli Sono tutti Imprigionati Eh sì Dobbiamo Dobbiamo Aspettare Il mese Un altro Bambino Ok Allora Qui Possiamo Creare Questo O questo Allora Allora La maggior parte Dei conti Che c'ho Sono qua Sopra Dovrei Creare Questo Regno Dell'Armenia E quanti conti Mi levo Uno Due Tre Quattro Cinque Mi levo Cinque passagli Però ne guadagno Un altro Oppure qua C'ho Un sacco De roba Che brutta Mappa Che brutta Mappa Che difficoltà Che difficoltà Tu fai parte Del Regno Della Georgia Allora Guarda Sai che ti dico Ok Non ti posso garantire Indipendenza Dai Io tengo Era con un Vassal Che strazio Facciamo Questo Vai Regno Dell'Armenia Ok E lotiamo A te Che mi sembri Abbastanza Convinto Tu Garantisci Vassalli Questo Garantisci Ti do anche No Questo no Questo no Questo te lo posso dare Oppure che Tanto di queste regioni qua Mi interessa ben poco Tredici Eh Questo Sei Invece Questo regno Qui Che lo potrei fare Lo potrei dare a te E ti do un altro po' di cose Quello si è abbassato E questo Tu vuoi Indipendenza Ma tu hai appena fatto Diventare un re Perché tu C'hai 6,4 3 3 Anzitutto Facciamo un po' Iniziamo a fare Delle conversioni Tu stai qua sopra E allora Oh Guarda un po' Garantisci Garantisci Questo qui Vai Questo pure Siamo tra le palle Vediamo che altro c'è qua Ok Quanti ce ne mancano 12 Beh le fazioni Pericolose Le abbiamo tolte Eh il problema Che io lo do Eh le do Questa Ma Non lo posso fare Non lo posso fare Ne serve un altro Regno E non ho la terza Is it Vai Lei Allora poi Fermi tutti Tu A te Ti educo Io Tu che sei Declino Siamo rilascio Domanda Conversions Eh però Perdi 20 Niente E adesso Possiamo creare Un nuovo Mamma mia Non lo posso dare A te Però guarda che roba È troppo frastagliato Mentre A te Ti posso dare Questo Garantisci i titoli Questo Quanto meno mancano 11 O ti faccio diventare Anche E A te Questo regno Qui Ti do Il regno Allora Innanzitutto Muoviamo la capitale Di qua Cordoba Ok E Vabbè Quella per ora Me la tengo No 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 Ok Coo 1 2 1 3 3 6 6 7 Allora Abbiamo detto Questo Potrei anche Fare il regno Tu fai parte Regno della Nikea Questo Eh già tu mi vai un po' più bene Quindi garantisci i titoli Regno di Nikea Garantisci i vassalli Scusami perché Non ce l'ha detto Ducato Io non ce l'ho De certo Questo Ducato Quindi Questi li posso dare Questo è un po' troppo grosso Me ne mancano Nove Quale? Questa ancora? Il mio vassallo Intrighi Un altro Nove Mi riduce le leve Le tasse Qua che sta succedendo? Vediamo un po' Il regno della Georgia Lo potrei fare ma Ce l'ha sempre questo Per togliere un titolo Quanti anni c'hai? 62 Quando accetti mai? Certo perché Se trevo il titolo Tutta sta roba si apre E io me lo posso risistemare Questo lo posso Da Nikea Ho paura di andare incontro Ad una guerra Che non posso vincere Anche se in realtà Sarebbe la scelta migliore Anche qui in realtà Potrei creare Questo Però fermi tutti Tu hai finito le tue guerre Posso darti Eh qua c'è territorio in Francia Quindi no Questi non te li posso dare Questi non te li posso dare Ah però a te ti posso dare Dei vassalli Ti posso dare questo Atene Ok Quindi io adesso ho preso Altri titoli Anzitutto rimettiamo Il marshal Duga mettiamo un re Mettiamo lei E Ho preso Atene sta qui Perfetto Quindi questi Questi Uno Due Tre Ok Ok E tu Garantisci titoli Ducato di Atene Garantisci No titoli No Garantisci un vassallo Ok Questo che roba Eh Ah è sto Duga qui Posso Revolgarti il titolo Ti posso Togliere il Ducato Eh qua sicuramente C'è da fare Eh Ok Ora Il Cairo Non è roba mia Questa è Nikea Quindi niente Questa te la vedi tu Questa è Piro Quindi niente A posto Qua l'abbiamo sistemato Qua Tu c'hai tutta Sta rubaccia Questo è il Portogallo Ok Questa è la Sicilia Ok Modena Però Come faccio Perché non ti posso dare Modena Ah perché Da Germania Eh no Niente Questo non accetterà mai E ok Questo non me lo voglio togliere E mi leva un sacco di soldi Quindi qua Ne avevamo già parlato E ok Qui Qui non possiamo fare nulla Non possiamo interagire L'unica Andare su delay Ma se ti mando tipo Allora Ti faccio questo 24 Ti mando un gift 59 Già un po' più alto E Questo lo potremmo quasi creare Ti posso dare un po' di robaccia Questo lo andiamo a creare Quindi Creiamo E lo do a te Ciccionissimo Ti do questo regno Sei Tu sei un duca Tu Fai parte di questo regno E c'hai solo questi territori qua Quindi te lo posso dare Garantisci i vassalli Questo Vai Tu anche Mi pare No Duca Della dell'Armenia Ok Questo deve essere Io questa Devo conquistare Questo lo dovrò conquistare Poi E Vediamo un po' Cinque vassagli Ancora Ok aspettiamo Perfetto Facciamo questo Così li posso imprigionare Eleonora Terza Vai Allora quindi Andiamo da Eleonora Terza E E Tocchiamo il bambino Questa L'abbiamo sistemata Che rimane Niente Abbiamo risolto tutto E vabbè E questa Stira del zampe Va bene Qui ci abbiamo Questo conte piccolo Fa parte di questo Non posso Surparlo Sì mi dovrei affrontare Poi Tanto qua Facciamo tutte le Conversioni Che sono Fondamentali Che altra fazione Ci sta Pericolosa E sempre questo Va Ammazzato Questo Non posso Fare nulla Allora Possiamo Garantire Eh Il problema Che questo Eh Non gli posso Garantire Sto duca Però questo Lo posso Imprigionare E gli posso Pure togliere La roba Giusto Eh un po' Di roba Te la posso Togliere Allora ragazzi Io Terminerai L'episodio Qui Sicuramente È una grossa Sistemazione Dell'impero Bizantino Dobbiamo ancora Affinarla Ma Possiamo adesso Andare a creare Degli hook Sui nostri avversari Quindi Tutta sta roba Piano piano Questa la devo Smembrare Questo Lo devo Smembrare Quindi Piano piano Mi li vado Ad alleggerire E E qui Anche Piano piano Qualche cosa Ci inventeremo Ragazzi Qualche cosa Ci inventeremo E Comunque Se il video vi è piaciuto Ragazzi Iscrivetevi al canale Commentate Per quanti Sì dubbi Per prestità O semplici E curiosità E noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti